Mentre gli ospedali sono in affanno per la gestione dell'emergenza Covid, ci sono soldi, tanti soldi, non spesi e destinati proprio alla sanità calabrese. Si parla di circa 2 miliardi che negli anni sono stati stanziati per la realizzazione dei nuovi ospedali in Calabria, rimasti solo sulla carta, per l'adeguamento e il potenziamento dei nosocomi esistenti, per l'ammodernamento tecnologico con fondi destinati all'acquisto di risonanze magnetiche, e infine per investimenti in materia di edilizia sanitaria. Ma nonostante le risorse finanziarie disponibili non si è fatto nulla. Perché? Cosa non ha funzionato? Difficile dirlo. Colpa della solita burocrazia? Probabile. Intanto i cittadini aspettano una sanità pubblica in grado di dare risposte immediate. Il paradosso è che mentre ingenti risorse finanziarie aspettano di essere spese, molti soldi vengono versati per le cause perse e per le spese legali delle aziende sanitarie e ospedaliere. La Calabria, secondo uno studio di demoscopica, è tra le regioni dove è maggiore l'esborso per i contenziosi. Il calcolo è di 5,97 euro di spesa legale per abitante con un esborso in valore assoluto di 11 milioni e mezzo di euro.